Good morning Genova, vorrei condividere con voi il racconto dei porcospini di Schopenhauer. In una fredda giornata d'inverno un gruppo di porcospini si rifugia in una grotta e per proteggersi dal freddo si stringono vicini. Ben presto però sentono le spine reciproche e il dolore li costringe ad allontanarsi l'uno dall'altro. Quando poi il bisogno di riscaldarsi li porta di nuovo ad avvicinarsi si pongono nuovamente. Ripetono più volte questa danza di avvicinamento e allontanamento finché non trovano quella moderata distanza reciproca che rappresenta la miglior posizione, quella giusta distanza che consente loro di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi male reciprocamente. Ecco io credo che nelle relazioni interpersonali sia importante che ognuno di noi trovi quella giusta distanza che ci permette di stare vicini per riscaldarsi reciprocamente, per proteggerci reciprocamente senza pungersi, senza farsi del male. È importante raggiungere questa distanza e mantenere questa distanza per sentirsi reciprocamente protetti, in sintonia, in relazione. Oggi in questo momento di difficoltà è ancora più importante che riusciamo a mantenere quella distanza, quella distanza che serve per proteggerci reciprocamente, per proteggere noi stessi e gli altri, per tutelarci. Ecco che però abbiamo anche bisogno di essere uniti nonostante questa distanza, uniti nella giusta distanza, uniti per combattere e per sconfiggere un nemico comune. Insieme ce la possiamo fare. Good morning Genova.